Un uomo di 44 anni è stato. Durante una San Giovanni a Persiceto. Nel Bolognese. Da prima ricostruzione dei carabinieri. L'uomo. Di origine nordafricana. Sarebbe stato colpito con almeno pugnalata al petto durante disputa con altre persone. Probabilmente italiane. In zona verde a Vicolo Baciliadonne. 118 è intervenuto ma il suo intervenuto gli operatori sanitari. Sono stati in grado di vedere solo la morte del 44 anni. Gli investigatori dell'arma hanno iniziato le indagini per identificare gli aggressori.